Sono più di 4 milioni i rifugiati che sono fuggiti dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa, lo fa sapere l'agenzia ONU per i rifugiati. Cala però il flusso verso l'Europa e l'Italia, ma il nostro paese si organizza con contributi e accoglienza. Se arrivassero numeri elevatissimi, il sistema sarebbe in grado di reggere, ha spiegato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato Schengen. Più di 75 mila profughi ucraini arrivati finora in Italia, oltre il 90% donne e bambini, la maggior parte, circa il 70% ospitati da parenti e amici, 5.600 nei centri di accoglienza. Questi numeri aggiornati dell'Eviminale, che parla di un rallentamento del ritmo degli arrivi a livello nazionale ed europeo, spiega la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Mentre all'inizio della crisi erano 200 mila al giorno in Europa, adesso siamo sui 40 mila, 50 mila al giorno. Tra le misure prese in Italia, aumentati i posti nei CAS e nei SAI, stabilito un contributo per massimi 60 mila rifugiati, che trovano una sistemazione autonoma, pari a 300 euro al mese per gli adulti, 150 per i minori, per 90 giorni. Chi non ha conoscenti, entra nel sistema dell'accoglienza diffusa, gestita da terzo settore, denti religiosi, per ulteriori 15 mila posti e 33 euro al giorno per migrante. Dei 475 minori non accompagnati, 344 si trovano in famiglie, autorizzate dal Tribunale per i minorenni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole, 24 ore. Sono più di 4 milioni i rifugiati che sono fuggiti dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa, lo fa sapere l'Agenzia ONU per i rifugiati. Cala però il flusso verso l'Europa e l'Italia, ma il nostro paese si organizza con contributi e accoglienza. Se arrivassero numeri elevatissimi, il sistema sarebbe in grado di reggere, ha spiegato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione al Comitato Schengen. Più di 75 mila profughi ucraini arrivati finora in Italia, oltre il 90% donne e bambini, la maggior parte, circa il 70% ospitati da parenti e amici, 5.600 nei centri di accoglienza. Questi numeri aggiornati del Viminale, che parla di un rallentamento del ritmo degli arrivi a livello nazionale ed europeo, spiega la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Mentre all'inizio della crisi erano 200 mila al giorno in Europa, adesso siamo sui 40 mila, 50 mila al giorno. Tra le misure prese in Italia, aumentati i posti nei CAS e nei SAI, stabilito un contributo per massimi 60 mila rifugiati, che trovano una sistemazione autonoma, pari a 300 euro al mese per gli adulti, 150 per i minori, per 90 giorni. Chi non ha conoscenti, entra nel sistema dell'accoglienza diffusa, gestita da terzo settore, denti religiosi, per ulteriori 15 mila posti e 33 euro al giorno per migrante. Dei 475 minori non accompagnati, 344 si trovano in famiglie, autorizzate dal Tribunale per i minorenni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole, 24 ore. Sono più di 4 milioni i rifugiati che sono fuggiti dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa, lo fa sapere l'agenzia ONU per i rifugiati. Cala però il flusso verso l'Europa e l'Italia, ma il nostro paese si organizza con contributi e accoglienza. Se arrivassero numeri elevatissimi, il sistema sarebbe in grado di reggere, ha spiegato la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in audizione al Comitato Schengen. Più di 75 mila profughi ucraini arrivati finora in Italia, oltre il 90% donne e bambini, la maggior parte, circa il 70% ospitati da parenti e amici, 5.600 nei centri di accoglienza. Questi numeri aggiornati del Levi Minale, che parla di un rallentamento del ritmo degli arrivi a livello nazionale ed europeo, spiega la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese. Mentre all'inizio della crisi erano 200 mila al giorno in Europa, adesso siamo sui 40 mila, 50 mila al giorno. Tra le misure prese in Italia, aumentati i posti nei CAS e nei SAI, stabilito un contributo per massimi 60 mila rifugiati, che trovano una sistemazione autonoma, pari a 300 euro al mese per gli adulti, 150 per i minori per 90 giorni. Chi non ha conoscenti, entra nel sistema dell'accoglienza diffusa, gestita da terzo settore, denti religiosi, per ulteriori 15 mila posti e 33 euro al giorno per migrante. Dei 475 minori non accompagnati, 344 si trovano in famiglie, autorizzate dal Tribunale per i minorenni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole, 24 ore.